Il traffico automobilistico è un traffico inquinante, un traffico che crea congestione, un traffico che crea nuove forme di squilibrio territoriali. Il traffico automobilistico va affrontato in maniera diversa rispetto a quello che è sempre stato fatto non solo a Bergamo ma in Italia in generale. Anche il suolo è spesso oggetto di un consumo indiscriminato e dannoso per la città e tutta la provincia. La provincia di Bergamo è molto sprecona per quanto riguarda il consumo di suolo, c'è una diffusione insediativa che invece va molto contenuta perché è molto negativa dal punto di vista ecologico. E allora si rende necessario affrontare il territorio partendo dalla definizione di beni comuni, acqua, aria, suolo, biodiversità e più attenzione alle comunità che abitano la città, in primo luogo ai singoli cittadini. Ridisegnare complessivamente i sistemi di governance, cioè i sistemi di governo del territorio partendo proprio anche da politiche che dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso con il coinvolgimento di tutti i cittadini come parte attiva, come cittadinanza attiva, cittadini però intesi come entità responsabili, consapevoli, quindi informate, che sanno com'è la realtà, che hanno a disposizione dei dati di realtà effettivi e che possono mettere a punto un'opinione consapevole e agire di conseguenza come entità responsabili.